Si verifica nelle forme in cui si è verificato quello di Fabiano o se l'atteggiamento delle forze dell'ordine è come quello che abbiamo visto il 12 ottobre qui a Bologna nei confronti di una ragazza come Martina è qualcosa che noi rivendichiamo in pieno, una resistenza a queste forme di arresto rivendichiamo una resistenza contro chi si nasconde dietro le divise senza avere i numerini di riconoscimento parliamo di Europa e siamo uno dei pochi paesi in Europa che non ha numerini di riconoscimento sopra la celera è qualcosa di vergognoso è qualcosa di vergognoso perché chi ha subito l'attacco in Val di Susa sono stati manifestanti